Ben ritrovati cari avventori dell'Uisona Bar Calcio, professionista essenziale e professionale. Con questi tre termini si può descrivere il nostro allenatore Tiago Motta che quest'oggi ha parlato nella consueta conferenza antevigilia di Bologna salernitana e diciamo che anche la fotografia massima di quello che rappresenta per noi Tiago Motta e dunque il Bologna, una società, una rosa, una squadra che scende in campo e ci mette in qualità di professionisti con la P maiuscola essenzialità nel fare le cose che si sa che si preparano e bisogna fare all'interno della partita e lo si fa con la massima professionalità, ok? Perché attenzione c'è da fare un distingo tra professionista e professionalità, sono due cose separate e noi si ha questi ingredienti perché il primo ad averli è Tiago Motta stesso. Se fate caso persino i giornalisti hanno imparato ad osare certi tipi di domande perché sanno che tanto certi tipi di risposte non verrebbero trovate e dunque persino le domande alcune vengono lasciate d'un canto, non vengono fatte perché proprio si vede dalla massima anche mimica comportamento non verbale che tiene Tiago Motta durante le conferenze stampa, li ha domesticati tutti, li ha messi tutti in riga e dirò di più ha fatto diventare anche più professionali nei limiti del possibile alcuni giornalisti. segno che Tiago Motta ha migliorato in ogni settore, bisognerebbe ancora migliorare qualcosa riguardo ai microfoni perché insomma delle volte si fatica anche a capire che cosa dica lo stesso giornalista ma talvolta potrebbe essere anche cosa buona a dir il vero. Uscendo da questo ma rientrandoci subito dalla porta principale riguardante il nostro Bologna e il nostro Tiago Motta, Tiago Motta stesso è secondo me poi migliorato grazie anche a questo Bologna a questa predisposizione che vi ha trovato, a questa fertilità di terreno che vi ha trovato qua a Bologna l'ha fatto migliorare come allenatore stesso per cui il cammino che sta facendo è veramente importante a 360 gradi come diceva lo stesso Tiago Motta e come sotto gli occhi di tutti. Se la nave va bella focalizzata al porto dove deve andare e tutti si rema all'unisono nella stessa direzione poi alla fine non esistono mosti marinai comandanti, sono tutti importanti in uguale maniera perché tutti hanno contribuito e si sono esaltati. E allora vedete un Bologna che funziona esalta i giocatori stessi ma esalta anche il tecnico esalta i dirigenti, esalta il direttore Massimo Patronio e grazie saputo esalta persino noi tifosi. Se siamo onesti e io perlomeno parlo per me poi voi parlerete per voi ma questo non lo dico adesso, lo dico da tempo a dir il vero io mi sento in qualità di tifoso anche migliorato grazie a Tiago Motta perché ho capito delle cose in maniera più palese ci sono delle cose che si hanno a livello inconscio e ci sono delle cose che poi a un certo punto pur avendole dentro di te diventano consce ecco diciamo una cosa Tiago Motta almeno nei miei riguardi ma penso anche nei riguardi di molti di voi ha reso consce molte cose che erano sotto traccia e quindi a livello inconscio avere un grande allenatore risveglia veramente molte nozioni che si hanno magari ma che sono sopite da una conseguenzialità di eventi negativi che appunto ti fanno abbassare il livello in ogni soglia e invece Tiago Motta ce l'ha risvegliato e ci ha fatto migliorare anche come tifosi ma anche lui come allenatore stesso io ho alla mente allenatori che dicono di preferire i giocatori che sappiano fare in maniera eccellente un ruolo nello specifico perché altrimenti mi ricordo che alcuni dicono senza stare a fare dei nomi e poi le caratteristiche che vanno messe magari in un determinato ruolo però sapendone fare tre o quattro si vanno a dissipare invece pensate Tiago Motta è di corrente alterna io vedendo Tiago Motta, ascoltandolo, vedendo come lavora, vedendo quello che ottieni io adesso oggi sposo quello che Tiago Motta stesso ci sta suggerendo io in un tempo era ad esempio di corrente alterna nel senso pensavo fosse meglio l'altra cosa che adesso vi sto per dire e capirete ma mi ha convinto che nel calcio moderno invece oggi è più utile la duttilità la duttilità ossia quel giocatore, quei giocatori che sono capaci all'interno di una stagione di poter ricoprire più ruoli perché questo ce l'aveva già fatto vedere il vero da quando è arrivato ricordiamoci Ebisher ma anche qua vedete la differenza vedete la differenza quando lui è arrivato e le cose all'inizio non stavano andando bene però lui aveva quel credo di duttilità di richiedere ai propri giocatori appunto una eterogeneità di quello che possono metterci in campo allora c'era un Ebisher che oltre a essere magari un centrocampista di vertice basso un mediano lo si faceva addirittura giocare alla esterna o addirittura falso nuove poi certo quando le cose non andavano bene a correnti molto alterne poi però la situazione si è registrata ha fatto sposare questo credo a tutta la squadra quando magari inizialmente il solo Ebisher poteva e sapeva di poter voler portare le borracce d'acqua ma Tiago Motta con l'ausilio appunto ad esempio di un Ebisher ha fatto sì di coinvolgere tutti i giocatori che poi vi sarebbero rimasti in rose quest'anno abbiamo la sublimazione di questa situazione abbiamo se ci pensiamo una serie di giocatori che possono ricoprire ma molti più di un ruolo perché basti pensare a Lucumi basti pensare a Calafiori che addirittura ha giocato se ho capito bene in Nazionale Under 21 come Mezzala cioè quindi può fare la Mezzala, può fare il difensore centrale in teoria il suo ruolo originario, il terzino sinistro lo stesso Tiago Motta l'aveva già sottolineato prima che ancora venisse impiegato in questa maniera in Nazionale e noi avevamo utilizzato Lucumi sia centrale sia sinistro abbiamo utilizzato Beochema sia centrale sia destro abbiamo utilizzato in tutte le salse Ebisher abbiamo utilizzato persino Moro in molte più di una salsa ce lo ricordiamo tutti esterno, di sinistra lo stesso Urbanski abbiamo utilizzato Odgard derivato da poco già in più salsa, in più forme Selemekers, Indoyer, Orsolini insomma proviamo lo stesso Ferguson lo stesso Fabiano a momenti ci manca quasi di vedere Skorupski che diventa, non so, difensore no, difensore centrale meglio di no visto i PD chi ha dove lo potremmo mettere forse è quello di difficile collocamento però ci siamo intesi a poco ci manca di vedere due portieri cioè uno di movimento e uno in porta ecco ci manca solo questo con Tiago Motta però insomma questo a far capire che a Tiago Motta piace la versatilità la duttilità l'eterogeneità di quello che un calziatore può mettersi appunto in squadra nell'arco di un'intera stagione perché questa è predisposizione questo è sacrificio al lavoro questo dice tanto la parola sacrificio al lavoro fa capire di che pasta siamo fatti detto questo e dunque ed elencato la grande duttilità che ha creato e ha cucito su misura Tiago Motta su questo Bologna su questa bellissima maglia che abbiamo rosso-blu va bene permesso e concesso grazie ci accingiamo dunque lunedì 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 alle 12.30 che sarà Pasquetta a giocarci questa partita che giusto ritenerla la più importante e all'oggi la più difficile perché guai a sottovalutare la Salernitana Mattiago Motta ha fatto capire una cosa fondamentale che questo Bologna non la sottovaluterà capisce il momento della Salernitana che ha bisogno di punti per non retrocedere che ha cambiato da poco nuovamente l'allenatore perché cos'è arrivato con l'Antuono se non sbaglio alla fine quindi la Salernitana comunque avrà avrà le sue avrà le sue diciamo la sua ambizione di volere portare a caso un risultato positivo no anche per orgoglio e quindi noi non si deve abbassare abbassare la soglia dell'attenzione e bisogna metterci quella garra che si mette quando si giocano partite di più di cartello ecco perché da qui alla fine ne mancano nove tra l'altro l'Atalanta ha vinto 0-3 a Napoli escusiamo se poco escusiamo se poco porca di quella vacca e ricordiamoci che ha la partita da recuperare con la Fiorentina e quindi l'Atalanta è più viva che mai noi quindi si gioca in casa con la Salernitana e noi si deve assolutamente portare a casa i tre puntasti tre non mezzo di meno non mezzo di meno non 0-25 di meno mi raccomando perché è fondamentale esistenziale per la nostra classifica e la nostra sorte altre distrazioni non sono di casa è stato chiesto a Tiago Motta se questo scrivere sui giornali di Tizio e Caio e Sempronio che sono affibbiate a Topolini a Paperini ok che ne so ok se può inficiare la concentrazione e l'attenzione nei nostri nei nostri uomini assolutamente questo è escluso è la risposta di Tiago Motta perché noi tutti siamo focalizzati sul presente e tutto il resto è inutile nullo è noia no tutto il resto non conta niente conta meno di 0 quindi questa è una bellissima è una bellissima risposta che fa capire molto di quello che è l'ambiente Bologna oggi tutti all'unisolo per andare a prenderci quello che questa stagione ci sta dicendo di poter meritare ma per potercelo meritare bisogna continuare così perché si inizia alla 1 e si finisce alla 38 non si possono prendere in mezzo delle pause e noi non ce le prenderemo detto questo miei cari eventori facciamo tutti quelle cose lì io ad esempio mi sono iscritto io mi sono iscritto al canale dell'Uisona Barcalcio e tu carissimo o carissima ti sei iscritto condividere il video con tutti i vostri amici rosso e blu ma non solo vuol dire prendere un terminale possibilmente che si accenda non come questo che è spento ok e telegram whatsapp instagram facebook tutto quello che vuoi anche tinder tu mandi il link del canale in più metti il mi piacino il pollice verso l'alto occhio che Tiago Motta e i Zugador lo mettono sempre non varia mica essere da bene detto questo campanaccio pastorale manca dirlo sempre attivo noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar